Un dialogo tra la filosofia orientale e quella occidentale sulla concezione di mente e coscienza ed una riflessione sul contributo che la psicologia, le neuroscienze e la fisica quantistica possono dare ad una tematica sulla quale nell'ultimo ventennio si stanno interrogando ricercatori di scienze diverse. Su questo confronto si articola la due giorni di convegno dal titolo Contemporaneamente, in programma il 3 e 4 dicembre prossimo al Cinema Modernissimo di Napoli e organizzato dall'Università l'Orientale, l'Ordine degli Psicologi della Campania, Zocchen Community e Comunità Zocchen Amdeling. Riteniamo che la possibilità per gli psicologi di riflettere intorno alle teorie della mente che vengono anche utilizzate poi nel lavoro clinico sia un'opportunità ma sia anche inevitabile. Noi qui in Amdeling abbiamo pensato di proporre questo argomento della mente che ci sembra molto vicino a questa ricerca che si sta sviluppando su che cos'è la coscienza.